Abbiamo deciso di anticipare di un paio di giorni della consueta data per permettere una più massiccia partecipazione. Oggi abbiamo invitato la Scuola Elementare Nigro di Tarsano e gli istituti Pacinotti e Pitagora. In che cosa consiste questa iniziativa? Siamo stati contattati dalla Marina Militare nel corso dell'ultima primavera. Abbiamo scelto di piantare 150 alberelli e di dare la possibilità di piantarli ai bambini della Scuola Elementare e ai ragazzi degli istituti superiori in modo tale che loro verranno iscritti anche in un registro, così potranno avere accesso qui quando vogliono, per vedere la crescita del proprio alberello che hanno piantato. Ormai sono anni che la Marina, la città di Taranto e le istituzioni lavorano in maniera sinergica per rendere più bella la nostra città e più vivibile. E questo va ovviamente in questa direzione. È un'iniziativa con uno scopo pratico, appunto, incrementare il polmone verde, ma anche educativo, perché i ragazzi piantando gli alberi chiaramente magari vorranno più bene anche al verde e si renderanno conto dell'importanza di questa loro attività. Sì, Mariscuola è una realtà che io, che raccomando da due mesi, sto ancora scoprendo. Sono in Marina da 35 anni, passavo qui davanti per andare a mare tutti i giorni d'estate, ma non mi ero reso conto delle dimensioni dell'area. È un'area molto vasta, molto verde, che richiede molta cura e noi cerchiamo nel nostro piccolo di dedicargli questa cura. Oggi i ragazzi andando in giro si renderanno conto, appunto, di cosa stiamo parlando. E ritengo che sia importante che la cittadinanza ne sia consapevole. In futuro, con le iniziative, che ho già detto, di carattere universitario ai ragazzi, cercheremo di rendere ancora più fruibile ai giovani tarantini, tutti i giorni, non solo quelli che vengono in Marina, ma anche quelli che decidono di studiare in ambito civile. E quindi mi auguro che per loro sia un'esperienza conoscitiva, di divertimento e anche molto educativa.